tra l'altro ragazzoli siamo allo stadio oggi sorpresa perché entriamo prestissimo sono infatti le 5 vedete dopo cosa succederà e siamo dentro tra pochissimo qua si svolgerà il derby della mole oggi in panchina due dei miei allenatori preferiti a livello di carisma di qua l'unico e inimitabile max allegri dall'altra parte invece iuric mamma mia salve certo che possiamo dire di averlo direttamente aperto noi lo stadium oggi oggi sì oggi sì ma speriamo di giocarci no un giorno forse chissà ma voi sapete che queste bottigliette qua a breve saranno malamente presa calci lo sapete voi sì lo sapete tu non ci crederai ma sono l'unica penso al mondo che ti aveva messo il titolare quando hai fatto 4 gol no non è vero perché il mondo si divide tra chi mi aveva nei 4 e chi mi aveva contro cioè sono due cose avanti chissi dopo chissi prima parolo 4 gol dopo parolo 4 gol io ti avevo in campo volevo chiedere cosa hai provato sull'autogol nel 2 a 1 a 65esimo poi salvato la partita e lo scudetto dai guai poi fai il 3 a 2 e il dramma sportivo lì in berlin personale soprattutto poi dopo per fortuna è andata bene e grazie anche a quella vittoria abbiamo vinto la competenza ciao ora ci siamo seduti a tavola per mangiare e abbiamo il tavolo numero 30 vento al curcimato ok io ho già digiuno ah no hai già finito no 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 non me l'hanno portata devo andare adesso a prendere la prima porzione di pasta però no 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 Oggi si scappa il gol dell'Axe, prever? Magari 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 Partite alla grande, è già subito qua Posso dire che a questo punto parvo era meglio rirlo ancora in campo Esattamente due gol nello stesso modo E per conto il quadrato 39 sempre nello stesso modo Mi aveva scoperto tanto perché magari eravano già 3 a 1 Capitano, mio capitano Che partita ragazzi Tiene primo disco con 4 gol, 2 a 2 Partita all'insegna del chi sbaglia di più Stiamo facendo sembrare Carabò Anche un buon giocatore Poi c'è da dire un'altra cosa Di Maria gioca un altro sport rispetto agli altri 21 in campo Cesni Male Ma di un male Quadrato invece è l'uomo dei derby Sia derby d'Italia con l'Inter sia derby della mole Quadrato c'è sempre Ma Laubic aveva fame Aveva fame il tuo Dusan Traversa piena Anche tu lo sbagliavi Perfetta parità 2 a 2 Una attraverso di Dusan E una attraverso del Toro Fra, mentre piangi a che punto si fa male Pogba? Vai a fare il *** E' il numero 45 E' il numero 10 Pogba! Vai Paul! Un momento perfetto Per l'entrata di Chiesa Perché le squadre sono molto molto lunghe Se la sblocca Pogba Cosa c'entra Pogba? Bravo! Bravo! Bellissima sta pausa bar Che c'è il preparatore che è andato da Pogba Per paura che si faccia di nuovo male Sopra il mare Qualcuno qua voleva ancora dell'altro francese Mi va anche a te lo volevi sotto sotto a me pure Siamo a quattro bere tutti a casa E in tutto ciò siamo a meno 10 dal posto in Champions Attenzione Nel frattempo è mattina E in tutto ciò siamo a meno 10 dal posto in Champions